Il best seller Amazon che ha aperto la mente a migliaia di persone in Italia e all'estero. Un libro che ha ispirato formatori e nuovi investitori, aprendo opportunità che prima erano nascoste a tutti. La realtà, spiegata in modo semplice, diretto e concreto dall'autore, attraverso esperienze vissute e raccontate. Il modo migliore per conoscere e partire dalle basi nel mercato delle aste, utilizzato da professionisti e imprenditori. Disponibile su Amazon.